Domenica 9 gennaio sarà l'ultima sera che vedrà disegnato l'albero di Natale più grande del mondo sulle pendici del Montengino di Gubbio. È stata una 41esima edizione molto particolare a causa dell'emergenza pandemica. Nonostante ciò, l'albero di Gubbio, grazie ad un nutrito gruppo di volontari, gli alberaioli che operano dal 1981, è riuscito ancora una volta nel suo intento, portare per il mondo una luce di speranza e un messaggio di incoraggiamento, fratellanza e calore umano. Con un grande sforzo organizzativo si è riusciti a svolgere una cerimonia di accensione in una location inusuale ma non meno suggestiva, che ha regalato ai presenti e ai tanti collegati alle varie piattaforme di streaming momenti di pura magia e gioia. Al comune di Gubbio, alla diocesi e all'associazione Avis sono andati i ringraziamenti del comitato. Realtà unite nei principi di condivisione, tolleranza e fratellanza e animate dalla volontà di valorizzare e promuovere la cultura e l'immagine del mondo della città di Gubbio. Pure nelle difficoltà di quest'anno, hanno commentato con soddisfazione gli alberaioli guidati dal presidente Giacomo Fumanti, siamo riusciti ancora una volta a regalare un Natale speciale alla nostra comunità. Un Natale di luce e di colori, per fugare paura e disperazione, per riempire di stupore i volti dei nostri piccoli e rasserenare anche di poco chi vive momenti critici, dando speranza a tutti. Doveroso, concludono gli alberaioli, è l'arrivederci al 7 dicembre 2022 per la 42esima edizione, con l'impegno di riuscire ancora una volta a riempire di meraviglia gli occhi e i cuori di tutti.